Ciao a tutte ragazze e benvenute in un nuovo video. Allora, da dove inizio? In realtà avrete già capito di che cosa si tratta, perché ovviamente avrete visto la miniatura del video, avrete visto il titolo, quindi... Insomma, vi devo solo spiegare come funziona. Innanzitutto devo dire che è stata dura, è stato difficile, anche se molte di voi non potranno nemmeno crederci. Perché forse chi non c'è dentro alla situazione, non c'è dentro a queste cose, io stessa non c'ero dentro fino ad un mese fa e ho sempre detto ma sì, ma dov'è il problema? Sono cose così, si fanno in un attimo. In realtà una volta che ci sei dentro ti rendi conto che è delirante, cioè la situazione è delirante. Ma di cosa sto parlando? Di cosa sto parlando? Allora, spero di riordinare un po' le idee che non sia un video confusionario, perché ho paura che sarà così. Prima di tutto vi ringrazio per essere qua e per essere così tante ragazze, cavolina. Siamo quasi 20.000 qua su YouTube. Proprio perché il mio seguito iniziava a diventare bello tosto, no? Comunque siete sempre di più, il mio canale cresce sempre di più e ho deciso di buttarmi, buttarmi in questa avventura che vi porterà dei contenuti sicuramente di qualità quindi è tutto per... io l'ho fatto per voi, ovviamente per me, perché per me è comunque una sfida ma soprattutto l'ho fatto per voi perché voglio portare contenuti di qualità e cercare di trasmettere ancora di più la mia passione nei confronti di questo bellissimo lavoro quindi tutto ciò che vedrete da ora in poi sarà fatto con estrema passione ma soprattutto sarà ancora più indirizzato all'insegnamento e alla condivisione di contenuti e prima di però spiegarvi un po' come funziona voglio ringraziare una persona che in realtà è stata la persona che mi ha spinto e mi ha spronato fino all'ultimo nella realizzazione di questo bellissimo progetto questa persona è Elena Elena Veronese, nel business coach per le poche persone che ancora non la conoscono ovviamente dovete andarla a seguire perché è una ragazza spettacolare che vi saprà dare consigli meravigliosi per quanto riguarda il lavoro dell'onicotecnica Elena è stata la persona che mi ha spinto a realizzare questo progetto e che mi ha affiancata fino ad oggi dannomi sempre la carica quando io di carica non ne avevo più quindi grazie devo dire solo grazie ed è solo grazie ad Elena se io sono qui oggi a farvi questo video e quindi niente ho deciso di creare per voi un mini corso totalmente gratis quindi sarà un corso gratuito a disposizione di tutte voi per tutte voi che mi seguite e come vi ripeto è stata una decisione presa con lo scopo di cercare di insegnare a più persone possibili il mio metodo di lavoro, la mia tecnica con questo non voglio essere presuntuosa ma sono semplicemente una ragazza che negli anni si è fatta comunque una cultura lavorativa ma soprattutto ha imparato sul campo che vuole condividere il proprio sapere con le ragazze che la seguono ovviamente questo è solo l'inizio è solo l'inizio perché questo progetto porterà contenuti sicuramente di qualità spero di riuscire a contenuti di qualità e a contenuti che possano essere appunto d'aiuto per tutte le ragazze che mi seguono insomma che vorranno intraprendere questo cammino insieme a me per iniziare e non è stato semplice ho deciso di offrirvi questo corso gratuito un corso disponibile subito via email a cui la persona appunto interessata potesse accedervi H24 per sempre quindi questi corsi questo corso che io ho strutturato per voi sarà disponibile per voi per sempre una volta iscritte vi arriveranno i corsi via mail e quindi voi avrete nella vostra casella email per sempre il link per accedere a questo corso gratuito però non volevo che fosse così ibrido nude e crudo c'è un mini corso bonus battuto lì come si vede spesso e volentieri ho voluto crearci una bella cornice intorno quindi mi sono messa qua in quarantena e devo dire che se non ci fosse stata la quarantena io non avrei mai mai non sarei mai riuscita ad affrontare ad affrontare tutto questo percorso perché è stato lungo difficile e tortuoso non potreste mai immaginare il delirio il delirio che è creare una cosa del genere quindi mi sono messa qua di buona lena in questi giorni di quarantena e ho creato il mio sito quindi giù in infobox troverete il mio sito ancora non aspettatevi chissà cosa è un sito molto semplice dove ci sarà una sezione appunto di chi sono una sezione di contatti e la possibilità di accedere a questo mini corso gratuito quindi per ora è un sito molto semplice però tutto un work in progress perché ovviamente dopo questa insomma dopo questo mini corso arriveranno delle cose un pochino più sostanziose un pochino più ricche però non è che voglio starvi qua a raccontare cose che non ho ancora messo giù quindi non sono ancora tangibili parliamo di quello che troverete in questo sito troverete la possibilità di iscrivervi al mio mini corso gratuito come vi dicevo ho deciso ho pensato più che altro questo mini corso per in base alle vostre esigenze perché io ovviamente nei mesi negli anni ho studiato un po' il mercato ma soprattutto ho studiato le vostre richieste e ho ascoltato più che studiato le vostre richieste e le vostre dubbi perplessità e le vostre necessità e ne è uscito questo corso ossia il corso che ho intitolato sfumature nasce dalla necessità di la totalità quasi di voi di imparare a sfumare i colori con la spugnetta quindi questa benedetta spugnetta che fa diventare matte tutte quindi non potevo fare un corso soltanto sulla sfumatura semplice banale con spugnetta la sfumatura la baby boomer questa baby boomer che fa sempre i pelucchi che fa sempre i puntini che è odiosa in superficie ma come cavolo si fa a fare una baby boomer con la spugnetta ecco in questo corso imparerete a fare la baby boomer con la spugnetta però ovviamente non potevo fare un corso buttato lì soltanto di una baby boomer con spugnetta quindi ho deciso di creare una struttura intorno a questo corso intorno alla baby boomer e ascoltando un po' il mercato insomma ascoltando un po' le vostre necessità e le vostre richieste mi è stato appunto chiesto da voi spesso e volentieri come applicassi i glitter e come creassi le sfumature di glitter in superficie senza rovinare la struttura dell'unghia allora ho detto ma dai che ne dici Elena se aggiungiamo alla baby boomer un video tutorial su come sfumare questi glitter e magari creare delle sfumature coprenti con mixando diverse texture di glitter ma soprattutto utilizzando quei glitter di medie dimensioni e piccole dimensioni che però creano sempre spessore e danno sempre fastidio sono bellissimi ma danno fastidio alla struttura bene quindi abbiamo aggiunto ho aggiunto quest'altro step al mini corso quindi troverete un primo video in questo mini corso dove parleremo della sfumatura di glitter come realizzare una sfumatura di glitter che io chiamo doppia perché stenderemo uno strato di glitter di un'altra texture sotto per creare la nostra base coprente e andremo sopra a mettere questi altri glitter per non creare spessore quindi vedrete tutto lì il secondo video di questo mini corso parlerà della baby boomer trucchi e segreti per creare una baby boomer in superficie senza fare i pelucchi puntini eccetera eccetera quindi riuscirà una bella baby boomer sfumata soprattutto la mission è non fare quell'effetto orrendo spugnato che vedo spesso e volentieri quindi creare una sfumatura omogenea e ma non poteva finire qua ci voleva qualcos'altro e quindi vi ho unito vi ho aggiunto un altro un altro video un'altra lezione che sarà la doppia sfumatura la doppia sfumatura parte da una base baby boomer per andarsi a sovrapporre con un colore per creare così una doppia sfumatura che va dalla punta colorata sfuma leggermente al bianco per andarsi a dissolvere con il cover che noi abbiamo utilizzato per creare la nostra struttura saranno tre lezioni che vi arriveranno via email insomma questo è un po' tutto vi ho spiegato un pochino tutto com'è questo mini corso com'è com'è strutturato adesso vi faccio vedere come fare per andare ad iscrivervi al mini corso come vi ripeto è interamente gratuito dopo questo corso non riceverete abbonate a nulla sarà un'iscrizione che vi servirà per accedere a me serve il vostro nome e la vostra email dopodiché accederete a questo corso che vi arriverà automaticamente sulla vostra email quindi è importante che voi abbiate sotto mano ma la vostra email ormai nei telefoni arrivano in automatico e una volta iscritta a questo mini corso io ovviamente terrò le email verranno inserite all'interno di un programma dove contiene tutte le email e io periodicamente adesso vi farò sapere perché è tutta una cosa nuova ragazzi è tutta una cosa un po' nuova che non che non non ho ancora idea ecco praticamente tramite questa email che io riceverò sul mio sistema periodicamente vi invierò delle email di nelle quali andrò a raccontarvi qualcosa o semplicemente vi darò dei consigli pratici dei consigli tecnici vi creerò delle schede di lavoro vi darò consigli su come lavorare in una determinata situazione eccetera quindi si creerà con una sorta di community tramite la vostra email e io vi creerò dei contenuti che voi riceverete sulla vostra email e spesso e volentieri ci saranno dei fogli di lavoro oppure dei fogli teorici che voi potrete scaricare e potrete ricevere assolutamente gratuitamente tramite appunto questa tramite la vostra iscrizione al minicorso quindi vediamo un po' al sodo adesso come fare per iscriversi al minicorso giù in infobox vi ho lasciato il link per accedere alla pagina dove potersi iscrivere allora facciamolo insieme così almeno insomma lo vedete anche voi e non sarà difficile prima di tutto dobbiamo andarci ad aprire questo link apriamo il link una volta aperto il link vedrete che ci saranno tutti i dettagli del minicorso troverete tutti i dettagli che cosa andrete a fare in questo minicorso quante lezioni saranno insomma c'è tutto un po' spiegato nel dettaglio dateci un occhio leggete quello che c'è scritto dopodiché una volta arrivate al fondo della nostra pagina c'è il box il form per iscriversi mi raccomando è obbligatorio spuntare il tastino della privacy quindi se volete potete andarvi a vedere la privacy policy che trovate sul sito tranquillamente acconsentite quindi al trattamento dei vostri dati inserite il vostro nome basta semplicemente il nome e la vostra email dopodiché cliccate su iscriviti è importantissimo ragazze che voi mi confermiate la vostra iscrizione la vostra avvenuta iscrizione perché vi arriverà un'email immediatamente sulla vostra sulla vostra appunto email vi arriverà un'email di conferma e spesso e volentieri questa email va nelle spam quindi controllate sempre la casella di spam sarà una mail dove vi verrà comunicato sei tu a esserti iscritta al minicorso sì sono io confermo dovete confermare una volta che voi avete confermato l'iscrizione al vostro minicorso inizieranno arrivarvi le email mi raccomando se non fate e non controllate questa cosa e non fate questo passaggio il minicorso non parte quindi è importante che controlliate questa cosa ci tengo particolarmente perché a volte finisce nella spam e uno solo dimentica e nulla dopo 5 minuti dalla conferma della vostra iscrizione al minicorso vi arriverà la prima email la prima email è un email di benvenuto dove vi spiego un attimino il corso ma soprattutto vi accolgo insomma è giusto fare gli onori di casa quindi vi accolgo in questo minicorso dopo 10 minuti quindi mi raccomando dopo 10 minuti dal ricevimento della prima email di benvenuto arriverà la prima vera email di questo minicorso ossia la prima lezione che sarà la doppia sfumatura di glitter quindi avete a disposizione un intero video dove io vi spiegherò passo passo tutti gli step necessari per realizzare questa sfumatura mi raccomando nell'info box del video troverete i link a tutti i prodotti utilizzati quindi per qualsiasi dubbio su prodotti vari codici sconto se ce ne sono insomma li trovate tutti nell'info box subito sotto il video se avete qualche dubbio per quanto riguarda il primo step il primo video in assoluto mi raccomando scrivetemi una mail potete replicare alla mail che vi è arrivata quindi potrete tranquillamente scrivermi un'email io sarò più reattiva se voi mi scrivete direttamente rispondendomi a quelle email io sarò più reattiva per me sarà più facile rispondervi perché magari non siete una non siete nemmeno 10 magari siete 20 30 persone non lo so che magari hanno bisogno di informazioni quindi sarebbe meglio che voi mi rispondiate e per eventuali dubbi curiosità mi scriviate rispondiate a quella mail mi raccomando quindi questa è la prima lezione dopo 24 ore dal ricevimento della email della lezione numero 1 vi arriverà una seconda email che sarà la lezione numero 2 anche lì solita cosa avete una parte teorica il bottone per andare a vedere la lezione la video lezione e ovviamente tutti i link dei prodotti utilizzati dopo 24 ore ancora dal ricevimento della seconda email quindi dopo 48 ore dall'iscrizione al minicorso riceverete la terza ed ultima email che parla appunto della doppia sfumatura solita cosa anche lì potete accedere alla lezione e la possibilità di insomma vedrete come realizzare una doppia sfumatura con la spugnetta se non cancellerete queste email quindi se il vostro minicorso il minicorso non verrà cancellato quindi se voi non cancellerete le email che riceverete da me questo corso vi rimarrà a vita quindi voi potrete vedere rivedere rivedere allo sfinimento queste lezioni ed è la cosa bella perché uno non la pagate quindi completamente gratuita e il secondo è a disposizione e a vita quindi insomma non so cosa aspettate ancora niente quindi io ho parlato anche troppo sono molto contenta molto emozionata per quanto riguarda questo bellissimo progetto come vi ripeto ci saranno risvolti in futuro e si si evolverà la situazione ci saranno delle altre bellissime cose per voi però ecco parliamo in maniera concreta e reale al momento avete a disposizione questo corso gratuito ovviamente se avete colleghe amiche che hanno dei problemi e delle difficoltà a realizzare queste tecniche oppure semplicemente che vogliono avere un'infarinatura oppure un ripasso su queste tecniche mi raccomando non esitate a a linkare loro il link all'iscrizione al minicorso quindi più persone lo vedono e più persone aiuterete me ad accrescere la mia lista quindi ad accrescere la mia lista email ma soprattutto aiuterete tante vostre colleghe a migliorare a performare con questa tecnica quindi non è finita qui dopo l'iscrizione al minicorso ci saranno tante piccole chicche per voi spero che siate contente io sono molto emozionata molto agitata perché so quanto impegno ed edizione ci ho messo nel realizzare questa cosa e spero che sia l'inizio di un bellissimo enorme progetto l'ho definito un enorme piccolo ma enorme progetto perché per me è enorme ma dal di fuori può sembrare una cavolata una cosa semplice ma ricordatevi che le cose non sono mai semplici specialmente quando uno non è del settore quindi si deve fare tutto da solo fatemi sapere se vi iscriverete ragazze fatemi insomma ditemi la vostra spero siate contenti di questa cosa di questo progetto e nulla non mi resta che dirvi buon corso iscrivetevi al link che trovate qui sotto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ciao 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 ciao